Il CONI ed Action Aid insieme per aiutare i bambini di Rossigna e Cidade Deus, due fra le favelas più popolose di Rio de Janeiro. L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la sicurezza alimentare, allestire nuove strutture sportive, ma anche biblioteche, sale giochi, centri di aggregazione, in modo che Rio 2016 rappresenti un'eredità sociale per gli abitanti delle favelas. Ma anche, come ha detto Giovanni Malagò, promuovere un'immagine meno patinata dello sport e portare questi valori positivi ovunque. L'inaugurazione del progetto è avvenuta nella sede dell'associazione ASPA, organizzazione locale partner di Action Aid. Nella delegazione c'erano anche ex atleti, ambasciatori del CONI, fra cui Fiona May, Carton Myers, Antonio Rossi e Andrea Lucchetta.